Musica Bella a tutti ragazzi Ben ritornati al vostro Joker Siamo ritornati su Geometry Dash Sempre con Carmen Ciao ragazzi Grazie di avermi votato L'avete votata tantissimo E ci siamo oggi ragazzuoli Allora io Sto mano a mano Riprendendo un po' la voce Ma speriamo che ritorni molto presto Stiamo a livello 5 ragazzi Tanto lei diciamo Giorni fa Cioè settimane fa Ha fatto un po' di Pratic Mode Ok Quindi Ha voluto studiare un po' la mappa Perché se no dice Oh Lascia la figlia di merda Allora Sei pronta? Sì sono pronta È prontissima ragazzi Vai Incominciamo subito E siamo partiti ragazzi Quindi Carmen sarà concentratissima Mi raccomando Mi raccomando a te non ridere A me mi viene da ridere Però Abbiamo messo anche la barra sopra Quella per vedere quanto manca Nel livello Per finirlo Ragazzi si è allenata E come vedete Già sta andando abbastanza bene Quindi già sono molto soddisfatto Ecco Hai parlato Però dicevo Comunque sono molto Sei molto soddisfatto Sono molto soddisfatto Di quello che hai fatto Sei arrivato al 24% Senza morire Diciamo Quindi Questa che è già Come prima volta va bene Come prima volta va bene Però certo Se riesci a farlo Io oggi vorrei evitare Di giocare anch'io Voglio proprio che questo livello Lo fai interamente tu Ma è sempre lì Sbaglio Porca droga Non è mai problema Pure lì sbagli Ah 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 Sono poco senza voce Ecco Sempre in questo Che ti è successo Cosa ti sta succedendo Di andare molto calma e tranquilla Ce la puoi fare Proprio al massimo Non devo sbagliare lì Porca Iniziano le sclerate della Carmen Attenzione Non parlare tu Bravissima Attenzione ragazzi Qua c'è un nuovo record Bravissima Che poi ragazzi Qui abbiamo notato Che dopo Se ci arriva Carmen Premette Che si giocherà Al contrario No Sono caduta Al 45% Cioè dopo quel pezzo Si gioca al contrario Quindi la si farà Veramente difficile No non è vero La situazione Dopo quel pezzo C'è l'aeroplano Ah c'è l'aeroplano Dopo la nave C'è quello al contrario Vedi lo sarà a memoria Però muore lo stesso Il problema è quello E ritornate al punto di prima Vediamo un po' Se la concentrazione È con lei Non parla Non deve fiatare Bravissima No 46% No No Non me può fare così Ci voglio provare un secondo Io ragazzi Segniamo un po' Io sto livello Quanta volta l'avrò fatto Zero Giocherino Praticamente zero volte Quindi ci proviamo Non è vero L'hai provato Mi pizzica il naso anche a me Realmente l'ha provato Sì l'ho provato Ma vi ricordo Che l'abbiamo giocato Tipo Quanto ci abbiamo Quanta volta ci abbiamo giocato Tre settimane fa Veramente Vaffanculo Come vedi anche tu Sbagli dove ho sbagliato anch'io Ma si sbaglia infatti Il problema è quello Mannaggia La voce Non mi torna più Vedi Già sto andando abbastanza bene Madonna mia Mamma mia ragazzi Eccolo qua Giocherino Che procede con il suo Cubetto Cioè che mi c'è più un cazzo Oh mio dio E ci siamo Ci siamo Ci siamo Molto delicatamente Vai Oddio Superarlo Oh mio dio Zitti Zitti L'aereo L'aereo Dovrebbe essere abbastanza semplice Ma io Sapete tutti Quell'aereo Faccio cagare Vai su Non ti preoccupare Qua me lo ricordo Questo me lo ricordo Oh Vaffanculo Non posso morire con l'aereo Che è la più cazzata del gioco Porca miseria Cazzarola Sei pessima E io almeno ci sono arrivato lì Ci siamo Alla navicella del cazzo Nave vabbè Alla navicella Sta supposta spaziale qui Mamma mia Attenzione Su Attenzione Vai vai Passa Oh mio dio Al contrario Al contrario Al contrario 97% Avevo quasi finito Sono morto nella fase finale Ma vaffanculo Ci siamo Vaffanculo E uno E due E tre E quattro Sì 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 Mamma mia Gli abbiamo Gli abbiamo Gli abbiamo Questa Si era resa Perché Gli brudeva Quel naso Ragazzi L'abbiamo fatta Mamma mia Quinto livello È andato Qui già le facce Cominciano ad essere Molto ancora tristi Cioè qua Roba con cazzata Il settimo livello Sarà una cosa Incredibile Comunque ragazzi Siamo arrivati Al sesto livello Dovrò far allenare Un po' di più Carmen Perché qua Aspetta che spostiamo così Dovrò fare Allenare un po' di più Carmen Perché il prossimo livello Lo devi fare tu Non devi arrenderti Lo so che è un gioco di merda Ma non ti devi arrendere Mi arrendo Non ti devi arrendere Ragazzi Facciamo così Spolliciare tantissimo Mi raccomando Mi raccomando Se questo video Arriva almeno A 12.000 mi piace Il prossimo livello Di Gli Lo farò fare A Carmen E a mi madre Che non ci ha mai giocato Ragazzi a mi madre Si Carmela Mamma Carmela Votate Però Deve arrivare a 12.000 like Se non ci arriviamo Mi madre Non ci gioca Ok Quindi ragazzi Mi raccomando Se volete vedere Sclerare mia madre Su questo gioco Fate una serie di commenti Da Carmen è tutto Da Joker è tutto Alla prossima Potete vostro Joker Bella ragazzi Bella Spolliciate Così vamo Cazzammi madre Che bella